La scuola che può aiutarci ad affrontare le sfide del futuro ma anche del presente sicuramente deve tener conto del mondo esterno alla scuola e quindi deve tener conto delle tecnologie che adesso ogni cittadino del XXI secolo ha a disposizione e sempre più le avrà a disposizione. Quindi è una scuola che deve preparare i nuovi cittadini anche a quella parte di mondo che continuiamo a chiamare virtuale ma che è chiaramente ormai porzione del mondo reale. Noi educatori a questo punto dovremmo anche noi fare un piccolo sforzo, piccolo o grande e mutare il nostro ruolo da semplici trasmettitori come siamo stati finora trasmettitori di contenuti, di conoscenze e diventare qualcosa di più. È un cambiamento di ruolo necessario perché la scuola deve un po' ridiventare una bottega e noi dobbiamo un po' fare i mastri di bottega. Anche gli ambienti di apprendimento a causa di questi cambiamenti dovranno, debbono già subire dei cambiamenti che sono dei miglioramenti perché diventano più potenti, diventano anche più efficaci e si abbattono in un certo senso i limiti temporali e spaziali del classico ambiente di apprendimento se si riesce ad affiancare l'ambiente tradizionale con un ambiente di apprendimento virtuale. Un libro che sicuramente ha influito molto nella mia formazione personale e professionale è il libro di Hofstadter, Gödel, Escher e Bach, l'eterna Ghirlanda brillante. È un libro che affronta i temi dei sistemi intelligenti fino ad arrivare all'intelligenza artificiale però da un punto di vista cognitivista e questo mi ha favorito molto nel comprendere i processi di insegnamento e apprendimento. Grazie. 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 Grazie.